Parlando di remix, non posso che rinominare Tiga. Per me il remix dell'anno lo ha fatto lui, remixando un pezzo di Iga Zalea featuring Rita Ora, si chiama Black Widow. Questo remix ha qualcosa di magico, un po' perché la canzone in sale originale era molto bella, un po' perché le due artiste hanno una voce inconfondibile. È come pensare a Erika Badu che incontra dei beat house e crea un'atmosfera veramente un po' particolare. Me lo vedo proprio in club piccoli e fumosi, dove il suono è predominante, soprattutto il suono del basso unito al riff vocale. Trovo che sia pazzesco, io penso che lo suonerò anche tutto il 2015.